Salve carissimi amici tutubi, sono Francesco, bentornati nella sua fita di Camera Mio, benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Quest'oggi parliamo del Doctor Strange numero 38, un video, volevo un attimo stoppare la sequenza di video Marvel a tema Thor, e vi parlo infatti quest'oggi del Doctor Strange. Una bella copertina che vede il nuovo stregone supremo che è Loki. Loki è diventato il nuovo stregone supremo. Tre ore e venti, due capitoli scritti da Cates per i disegni di Valta, e una breve, una mini tre pagine, che ci rielabora le origini del Doctor Strange. Origini che, per chi ha visto il film, non è nulla di nuovo sotto i punti, sono esattamente quelle, molto molto semplici, però perlomeno per chi magari il personaggio non lo conosce proprio, magari non ha visto neanche il film ed è stato attratto da una copertina che vede Loki in copertina ha più o meno le linee guida per capire un pochettino il personaggio. Di primo acchito non mi erano piaciuti, ma nel corso della lettura li ho trovati abbastanza adatti, è stato di uno stile piuttosto minimale, là dove vuole essere molto minimale, ma comunque con una discreta personalità. Quindi uno stile di disegno, secondo me, non adatto a tutti, ma tanto lo vedrete qui alla mia sinistra sicuramente, ma estremamente piacevole. I capitoli all'interno di questo numero sono due, come dicevo, tratte dal Doctor Strange 381 e 382, lo story arc che si intitola Loki, Stregone Supremo. È uno spillato monografico, in virtù di questo farò sia per Doctor Strange che per Thor un video iniziale dove vi do le mie impressioni su questo primo capitolo e farò un video alla fine, terminato lo story arc. Questo perché il mio timore è che finirei per fare video relativamente corti e tutti uguali, visto che parlerei sempre solo dello stesso story arc. Per Doctor Strange va già un pochettino meglio perché so che c'è un crossover, ci sono un paio di story arc, quindi nel corso dei prossimi mesi dovrei fare un paio di video su Doctor Strange. Per Thor invece è un'unica lunga storia, quindi non ha molto senso continuare a ribadire sì il capitolo mi è piaciuto, sì bello, sì... Bello lo stile di disegno è sempre lo stesso, quindi non ha secondo me troppa rilevanza, troppo di impatto. Quindi farò per Marvel Legacy, così come sto facendo per la DC tramite Brossurati, farò il video direttamente sull'arco narrativo. Fatta questa premessa parliamo di questo inizio di Loki Stregone Supremo. Un primo e un secondo capitolo molto 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 intriganti. Si focalizza veramente tanto sul personaggio di Loki, analizzandolo un pochettino più introspettivamente e facendoci un attimino intuire quali sono le sue intenzioni alle vesti di questo ruolo così importante e così gravoso. All'interno di questa storia ovviamente non mancherà il Doctor Strange. Doctor Strange che però ha un ruolo decisamente di secondo piano, è quasi più un personaggio secondario all'interno della sua testata, almeno nel primissimo capitolo, visto che compare solamente nelle ultimissime pagine con un colpo di scena abbastanza sorprendente. Il colpo di scena è legato al fatto che il Doctor Strange non è più uno, abbiamo già detto, lo Stregone Supremo, ma non è neanche più un medico, perché per anni e anni non ha esercitato il suo mestiere, quindi non è più abilitato ad essere un medico. Il che rende la storia abbastanza intrigante e mi emette abbastanza curiosità nel cercare di capire come la sua vita domestica, tra virgolette, si possa conciliare con il suo nuovo lavoro da un lato e col suo ruolo di Stregone che cercherà sicuramente di riottenere il ruolo proprio di Stregone Supremo, quindi alla fine di questo story arc presumibilmente tornerà nel suo ruolo canonico. Quindi è proprio uno story arc di passaggio tra quello che è attualmente il Legacy e poi il Fresh Start che arriverà in Italia a novembre, dicembre, gennaio, indicativamente. Questo numero nello specifico quindi vede da un lato tutti i comprimari del Doctor Strange, alcuni comprimari del Doctor Strange che io non conosco, cioè un assistente che era l'assistente dello Stregone Supremo, adesso è ancora l'assistente dello Stregone Supremo, e Loki cercherà veramente di, insomma, cercare di scoprire da lei tutto quello che può per un fine che viene già abbastanza dichiarato all'interno di questi volumi, che è quello di cercare un incantesimo antico estremamente potente che se finisse nelle sue mani probabilmente provocherebbe diversi casini. In virtù di questo è lo stesso Doctor Strange che si muoverà e lo vedremo nel finale del secondo capitolo, prendere una decisione piuttosto impegnativa e importante per l'intera continuity Marvel. E sinceramente non conosco quella situazione lì, che quindi non mi permetto di giudicare quella situazione lì, resta il fatto che mi ha destato piuttosto interesse e stupore. Al punto che voglio continuare a leggere questa testata qui, non so effettivamente di preciso cosa aspettarmi se non nei prossimi numeri uno scontro diretto tra, ovviamente, Strange e Loki per far riottenere a Strange il ruolo di Stregone Supremo, ma a parte questo che è ovvio che succederà, il resto è tutto abbastanza ancora all'oscuro, abbastanza misterioso e mi mette davvero voglia di proseguire la lettura. Un altro personaggio che mi è piaciuto è il personaggio di Bat, non vi dirò chi è, non vi dirò che cosa ha fatto all'interno di questi primi due numeri, ma l'ho trovato davvero molto interessante e con tantissime possibilità, ma forse un pochettino sprecato. Se avete letto questi due numeri sapete che cosa intendo dire, se non lo sapete vi consiglio di darci un'occhiata. La tensione c'è, è palpabile, ma è una tensione che riguarda più che il Dottor Strange, per cui non ho provato nessun tipo di affezione, nel senso che il personaggio c'è, è presente, ma non è il protagonista della vicenda. Vediamo davvero tanto, tanto, tanto Loki. Mi è piaciuta questa cosa qui, perché mi piace il mondo sgardiano della Marvel, mi piace il personaggio di Loki e voglio vedere che cosa ha intenzione di fare. Però ovviamente nella testa del Dottor Strange mi aspettavo che, ok, sì, Loki fosse presente, ma che ci fosse molto più spazio per Strange. Ovviamente questa cosa qui succederà nei prossimi capitoli e avrò modo di capire quanto il personaggio effettivamente mi piaccia o meno e se col Fresh Start ho intenzione di proseguirlo o meno. Detto questo, qui sotto nello spazio dei commenti ditemi la vostra. Avete letto questo Dottor Strange, questo Loki strecone supremo? E che cosa ne pensate? Con questa serie qui ci rivedremo quindi quando sarà finito questo story arc, ma aspettatevi altri video su Thor a breve, ma anche su tutte le altre testate che seguo. Praticamente faccio un video al giorno ultimamente. Spero che con questa scelta di pubblicare per archi narrativi avrò un pochettino più di respiro. Questo è davvero tutto. Qui nello spazio dei commenti, come vi dicevo, ditemi la vostra. Qui da Francesco, tutti i miei amici nella soffitta di camera mia, non più in soffitta è tutto. E noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale. Ciao!